Tutta sta cultura, fa bene, in momenti di crisi la cultura è l'unica ancora di salvezza, nel mare della vita, nel mare della crisi, la cultura, bisogna investire in cultura, in musei, in pinacoteche, non lasciare andare in rovina il Colosseo, Pompei, solo che non lo capiscono. Di questi tempi il segno che la cultura c'è è un buon segno? Sicuramente, ma la gente ha fame di cultura, però bisogna dargliela in maniera. Lei ha fame di gelato però, eh? Eh, non c'è tanto, per rinfrescarsi. Lei è di Polignano? Di Conversano. Ma lei non sa l'etimologia della parola Polignano? No, confesso la mia ignoranza. Quindi c'è bisogno di cultura ancora di più? Vada su Google. D'accordo.